Buonasera ragazze, come state? Spero bene, da quanto tempo abbiamo fatto adesso praticamente il video dei terminati skin care ora facciamo il video dei terminati body care, questa volta ho solo 4 prodotti da farvi vedere perché ho fatto trattamenti urto ma erano tutti col fangone quindi non ho tantissimi bezzaggi e cose splendide da farvi vedere questo mese comunque vi ricordo come ho fatto nel video precedente che attiva una promo del vi metto qui il solito quadratino, una promo del meno 20% su tutto il sito fino al 26 di agosto a cui si va a sformare se non l'avete ancora utilizzato o se siete nuovi clienti lo sconto newsletter che è lo sconto di benvenuto del 10% che potete avere andando nel mio link che trovate scritto qui sotto nell'info box e entrare nel mio link e fare il login e flaggandolo poi se traspunto e scrivete la newsletter poi abbiamo un'altra sorpresa sempre solo per chi però fa l'ordine sempre in questo post che è un post che trovate su Instagram nel sito ufficiale di Oltre il Sole andando sotto questo post ci potete arrivare tramite il mio info box trovate il link per accedervi scrivete il numero d'ordine lì sotto e Oltre il Sole vi regala una maschera in tessuto per il viso questo perché scusarci perché il nostro magazzino breve chiuderà per un po' di vacanze e quindi vorrà chiuderà per riposarsi un po' e vorrà farci un regalino allora partiamo con la questione solari ho terminato il solare 2 che è una protezione solare rimodellante ha un bellissimo effetto anche push up sull'erettantità quindi è bello come dire compattante, rassodante, anticellulite e ha appunto effetto push up soprattutto sulla zona del gluteo ha un buonissimo profumo, tutta la nostra linea solari è eccezionale mi sono trovata bene, ho una protezione media io non mi sono bruciata con questa, quindi è una media, non è anche troppo bassa è profumatissimo e si sposa bene con tutti gli altri prodotti solari tipo l'olio solare e l'attivatore è tutto stato studiato in modo che non venga fuori una passione di profumi se uno stratifica questi prodotti quindi questo mi è piaciuto, ve lo consiglio poi per quanto riguarda mi è rimasto un prodotto viso in mezzo al prodotto corpo beh vabbè, ne fanno lo stesso pensavo che con questo packaging fosse la mousse slim quindi ho ancora un pochino di mousse slim gambe cioè slim notte che sto per finire ma anche la mousse push up glutei e seno che ha lo stesso packaging quindi di spalle mi sembrava quello mi sono sbagliata vabbè, struccami è praticamente una mousse micellare che serve per lavare il viso la mattina o per lavarsi il viso la sera quando si è truccati dopo aver usato questa che toglie il grosso bisogna usare per forza il latte detergente quindi questa alla mattina anche da sola il latte detergente alla mattina anche da solo volendo ma questa se la utilizzate dopo bisogna usare il latte solare perché da sola non è il latte solare scusate il latte detergente perché questa da sola non è in grado di andare a muovere tutto il trucco è molto delicata non fa tirare la pelle cosa che per me è indispensabile ne ho provate 50.000 nella mia carriera di youtube ma l'unica che non mi fa tirare la pelle è questa e un'altra di Lidl che non producono più alla mandorla ma questo prodotto professionale è tutta un'altra cosa però non era male comunque tutto sommato anche l'altra ma comunque fuori produzione quell'altra faceva un po' di lavaggio così questa dietro dei principi attivi che ci aiutano su vari fronti quindi scusate la licenza poetica di un prodotto viso all'interno dei prodotti corpo altro prodotto corpo che ho terminato della cura quotidiana quindi noi per cura quotidiana interiamo quei prodotti che andiamo a applicare mettendo in sera dopo la spostolatura la fosfa fluida la fosfa fluida non è altro che una specie passatemi il termine di siero da mettere al di sotto delle altre creme della cura quotidiana può essere utilizzata anche da sola ma l'ideale dà il meglio di sé quando è stratificazione perché il primo crema che andate a mettere con l'altra di sopra fa spingere più in profondità questa e quindi questo è un auto adiperapido che si sposa perfettamente con tutte le altre nostre creme della cura quotidiana contiene la fosfa di discolina che va a scindere la cellula di posa tra gli acidi grassi essenziali e i trigliceridi in modo che il volume della cellula di posa diminuisca e i rivolumi siano ridefiniti ha un buon profumo a me piace anche se c'è chi dice che puzzicchia per me no non è un po' particolare però non fa cattivo odore è perfetto per tutte quelle persone che hanno bisogno di ridurre l'adipe ultimo ma non per importanza è il fangone quindi un trattamento urto questo è una fangatura una normalissima fango quindi si spalma non è un vendaggio non è un pantaloncino è proprio un fango come fosse una crema il bello di questo prodotto è che non puzza non appiccica non cola e ha una profumazione buonissima di lavanda ci sento ancora tanto è molto piacevole anche da usare la sera è molto rilassante come profumazione e si sciacqua molto molto facilmente naturalmente se usate il pantalone in cartene poi il pantalone in cartene dovete buttarlo ma se prima di mettere il pantalone in cartene per sfruttare un po' l'effetto sun del pantaloncino mettete anche la pellicola non troppo stetta non troppo larga insomma come si deve come dei fuggiti di riferimento vi spiegherò potete andare a fare farlo penetrare bene in profondità senza costringere troppo non stitulare la circolazione naturalmente anche dentro a questo fango che è un'azione anti adipe attacco giorno potete grazie alla fosfa di edilcolina andare a ridurre la cellula di posa ma anche una tecnologia drone che va a colpire proprio la cellula quella cellula di posa lì quindi è un prodotto professionale fantastico la utilizzano molti i centri estetici come fangatura in cabina appunto i nostri sono tutti prodotti professionali ad alta concentrazione d'attivo al limite dell'idea eticale se la figura dell'info beauty potete scegliere anzi lei sceglierà per voi il protocollo personalizzato più adatto alle vostre esigenze la consulenza ve la omaggio io quindi è gratuita e non vincola all'acquisto quindi perché non farla non vi viene in mente nessuna motivazione valida quindi approfittate fate scegliere dall'info beauty all'info beauty il protocollo che è più nelle vostre esigenze così evitate di spiegare soldi inutilmente in prodotti inefficaci per il vostro inestitismo e soprattutto non rischiate di scegliere prodotti che per voi non vanno bene in caso di altre avete delle patologie non so se ho fatto di tiroide abbiate delle vericose capilari in evidenza insomma non si può usare tutto in questi casi ma noi abbiamo delle tantissime alternative possiamo contentare anche le persone che hanno questo tipo di problema quindi il fango io lo utilizzo non proprio due volte a settimana anche io ogni tanto perdico bene e razzolo male però mi piace perché è compattante molto fa un bel effetto sulla grana della pelle è compattante anti adipe ed è anche drenante e anche rassodante quindi insomma soprattutto è anti adipe però fa anche altre cose naturalmente i risultati che vi dà il fangone poi vanno mantenuti con le creme della cura quotidiana neanche a dirlo abbiamo anche tanti integratori per bocca ve ne parlerò magari più avanti in un video dedicato fatemi sapere se c'è qualcosa in particolare che vi incuriosisce che avete visto sul mio profilo instagram anzi andate a seguirmi se avete visto qui su youtube in anti video andate a vedere la playlist che c'è nella mia home page che si chiama oltre il sole vi fate sapere o avete visto magari il suo profilo ufficiale instagram del brand appunto oltre il sole scrivetemi che vedeteci sul video tutto diciamo dedicato niente questo è tutto mi raccomando gli sconti quindi se vi interessa qualcosa approfittate ordinate dentro il 25 di agosto se siete interessati all'attività di info beauty vi metto come nel video precedente qui sotto un video dove vi parlo di tutti i lati positivi di diventare una consulente di bellezza del brand oltre il sole io vi mando un bacione mi raccomando condividete il video con quelle vostre amiche con cui siete sicure che avranno bisogno di me oppure che sapete che sono interessate alla skin care la body care lasciate un commento che mi fa sempre tanto piacere e ci vediamo alla prossima ciao